questo capolavoro del pittore giovanni boldini che da ferrara città del nord italia fece fortuna nei salotti della nobiltà parigina rappresenta un celebre poeta scrittore ed endi francese robert de montesquieu autore di 11 volumi diversi due romanzi tre volumi di memorie e numerose opere di critica l'essere dandy negli anni della belle epoca a fine ottocento era un atteggiamento che consisteva nel vestirsi elegantemente esprimere un egocentrismo esasperato e un'ironica separazione dalla realtà e rifiutare la mediocrità borghese fu madame veil picard amica comune di entrambi a commissionare il dipinto boldini che era molto colpito dalla fama di questo esteta contemporaneo quarto e ultimo figlio del conte de montesquieu fesenzac robert discendeva da una famosa famiglia che contava al suo interno il celebre d'artagnan apertamente omosessuale fu sempre molto attento a evitare scandali e pettegolezzi alla sua morte nel 1921 lasciò i pochi beni che gli restavano al suo segretario montesquieu sostenne l'avanguardia artistica del suo tempo ma l'armé e verlene in poesia debussy e foret in musica e le in pittura il conte ispirò inoltre il personaggio di desessen nel romanzo a rebours di joris carl heisman quest'opera condensa sia il complicato rapporto pittore modello sia i pensieri sul ritratto moderno scritti dallo stesso montesquieu in un articolo rivolto a boldini il conte sostenne che per far bene un ritratto non bastasse essere fedeli alla realtà ma occorresse realizzare sulla tela un mix tra l'identità del pittore e quella del modello boldini venne identificato come il ritrattista moderno per eccellenza perché nei suoi dipinti svelò le caratteristiche del soggetto rappresentato ma inserì anche un giudizio personale in questo quadro l'artista mise sicuramente in evidenza l'aristocrazia la sicurezza e l'eleganza di montesquieu ma fece molto di più il conte infatti tiene in mano un bastone da passeggio a modi scettro simbolo regale forse boldini nel mescolare un atteggiamento della ritratistica regale del sedicesimo e del diciassettesimo secolo con la raffigurazione della modernità ha voluto ironizzare sull'estetismo esasperato del conte una curiosità il bastone sorretto e guardato con tanta attenzione da montesquieu era appartenuto a edmond de goncourt scrittore critico letterario e dopo la morte del conte fu acquistato dal principe dei surrealisti salvador dalì se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando A presto! Grazie a tutti.